Architettura, costruzione e città è un corso magistrale che forma progettisti dell'ambiente costruito, combinando la tecnica con le scienze umane. Le sfide poste dalla trasformazione della città e del territorio sono alla base di un'esperienza formativa multidisciplinare e internazionale. Queste sfide sono affrontate all'interno degli atelier dove gli studenti sperimentano la progettazione alla scala dell'edificio e della città. Casi reali sono affrontati in team con il contributo di docenti di discipline diverse per sviluppare competenze operative e di dialogo con altri esperti. I corsi disciplinari forniscono gli strumenti per la progettazione permettendo agli studenti di agire nei complessi processi di trasformazione urbana. Le strutture, la fisica tecnica e la modellazione digitale forniscono gli strumenti pratici e teorici per agire nello spazio costruito, dialogando con i tecnici specialisti. Il diritto, la storia, il restauro, la teoria del progetto insieme ad altri humanities permettono di comprendere la complessità e di inserirsi nei processi decisionali e culturali che agiscono sulla città. Ciascuno studente potrà affinare la sua specializzazione in maniera autonoma. I contatti con l'attività di ricerca, workshop pratici di progettazione, i seminari introduttivi e i seminari di tesi sono solo alcune delle opportunità offerte da Architettura Costruzione Città per costruire un percorso formativo personalizzato. I team studenteschi, costruiti attorno a progetti da realizzare, gli incontri con professionisti e studiosi e la possibilità di essere supportati per tirocini pre e post laurea in più di 30 istituzioni, si aggiungono alle molte possibilità offerte da una grande comunità di studenti provenienti da tutto il mondo. A Torino è possibile seguire il percorso formativo sia in italiano che in inglese e da qui si possono raggiungere 50 istituzioni in 20 paesi attraverso il programma Erasmus+, mentre progetti speciali e di doppia laurea coinvolgono 7 paesi al di fuori dell'Unione Europea, tra cui Cina, America Latina e Australia. L'emergenza sanitaria che tutto il mondo ha affrontato ha posto molti interrogativi alla nostra comunità universitaria. Da questa esperienza sono nati nuovi modi di interazione tra studenti e docenti, di studiare l'ambiente costruito, di condividere i risultati dei corsi. La piattaforma Telearchitettura racconta una parte di questi modi e offre una panoramica dei lavori degli studenti dell'ultimo anno accademico. Grazie a tutti.